Piccoli al pallone, uno, due, poi se ne va e di nuovo il terzo uomo che è Coletti La deviazione è profissima, sì, assolutamente con la pianta del piede Però Castaldo è il protagonista di un'azione di 50 metri, terzo gol in campionato per Castaldo L'anno alla Lucerina l'ha fatto verrà